Il Campania Teatro Festival in scena Paolo Endel con la giovinezza è sopravvalutata. Anna Teresa Damiano. Erano decenni che non venivo a Napoli e questo non è stato bello da parte vostra. Saluta il pubblico del Campania Teatro Festival Paolo Endel. Napoli dice ha illuminato gli occhi di sua figlia adolescente. Capitolo 1. La giovinezza è sopravvalutata. La voce del regista Joelle Dix scandisce otto capitoli del monologo scritto con Marco Vicari. La giovinezza è sopravvalutata, frutto di un libro nato da un fatto vero. Ho accompagnato la mia mamma a novantenne da questa nuova geriatra. In sala d'attesa la mamma è dovuta andare in bagno accompagnata dalla badante. Resto lì da solo e in quel momento la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa prego signore tocca a lei. E allora, manutenzione di corpi malandati, riflessioni su un paese vecchio ma non consapevole. Da un recente sondaggio fatto dall'Associazione Europea di Urologia, una roba seria, è risultato che il 54% dei maschi europei pensa che la prostata sia un organo femminile. Ricordando il maestro Mario Monicelli diceva la vita è un balocco, a 90 anni preferì definirla un deplianto. Pum, 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 finito.